Bisogna fare squadra, tutti devono fare squadra, cioè il mio appello a quando sono diventato ministro, un appello che ho fatto è rivolto al presidente Malagò, che l'ho accolto con molta attenzione, ma l'ho rivolto allo stesso modo anche all'ingegner Sabelli, perché anche Sport e Salute deve entrare nell'ottica di dover costruire insieme una squadra con tutti gli altri. Io mi muoverò con molta, come ho detto prima, anche laicità continuamente nel 2020 per cercare questo equilibrio continuo. Io da ministro non sono da una parte o dall'altra, deve essere da parte dello sport tutto, però tutti devono fare la loro parte, il presidente Malagò la sta facendo, il presidente delle federazioni, anche l'ingegner Sabelli deve tarare bene questo suo ruolo a guida di una società che è dello Stato, per cui deve assolutamente esprimere gli indirizzi, io emanerò un atto di indirizzo alla società Sport e Salute ai primi del mese di gennaio e quindi vorrò poi che quella società possa attenersi fortemente a quegli atti di indirizzo. Hai chiarito con Sabelli quella telefonata? No, lo incontro mercoledì, l'ho convocato mercoledì per farmi dare qualche chiarimento in più perché sicuramente è una telefonata che non mi ha, almeno così da come si percepisce al fuori onda, sicuramente non mi è piaciuta, però immagino che lui avrà modo di spiegarmi e io di valutare.